Hanno rischiato davvero grosso i due cani fuggiti da un recinto di una casa a Senigallia e rintracciati successivamente lungo la careggiata sud dell'autostrada adriatica dopo il casello di Marotta Bondolfo dagli agenti della polizia autostradale di Fano. E c'è voluta la mano della provvidenza per rendere meno difficoltose le operazioni di salvataggio perché in quel momento erano le 11 del mattino due militari del gruppo cinofili di Pesero, uomini esperti ed attrezzati di cibo e guinzagli hanno visto la scena e dato manforte ai colleghi della stradale. Un aiuto davvero prezioso per gli agenti visto che i due animali fuggivano all'impazzata e non si facevano avvicinare da nessuno. Il cane più grande si chiama Rocchi, ha circa due anni ed è un incrocio tra un pastore tedesco ed un labrador. La piccolina è una trovatella che vive con Rocchi, meticcia e si chiama Stellina. Mentre Rocchi si è fatto avvicinare senza troppi problemi dai militari, Stellina dopo aver attentato la fuga si è accucciata tra i rovi non facendosi avvicinare da nessuno. Rocchi, ormai al guinzaglio dei carabinieri, nel frattempo tirava per portarsi verso di lei quasi a volerla proteggere. Con calma e professionalità da parte di tutti alla fine anche Stellina si è fatta prendere ed è stata portata in salvo. I cani sono ben tenuti, puliti e lo stesso proprietario che ha definito i suoi corritori degli angeli non è riuscito a darsi una spiegazione su come possono essere riusciti a scappare da casa nonostante la recinzione e la lontananza dall'autostrada. Il traffico veicolare piuttosto sostenuto a quell'ora non ha però subito rallentamenti.